ragazzi finalmente ho chiuso la porta della camera di Chris sono riuscito a chiudere è stata chiusa da sola senza una sedia che la tiene ferma fantastico e comunque siamo di nuovo qui su Uncharted in compagnia di Chris che sta giocando sono demoralizzato perché mi tocca fare due serie uguali eh lo so ma figlio di questa qui viene fuori tre volte più bella dieci volte più bella che poi gli altri episodi della serie di Chris sono venuti fuori anche abbastanza bene ma io volevo che questa qui fosse una serie decisiva per il canale cioè non posso fare una serie mia col gioco mio quello che è stato mio che viene un altro che ha un sesto del canale discreterà diese un forno husky un sanguinio nel potere le caraggiere alzitman uscire noi quindi 15 sessi della competenza del canale colpa sua se io pigorono si sono che sia la storia ha prefettuiti ine bottom se è venuto fuori divertente kистar hitler per uva sua voluette perché da bestimmte c'è a sicurezza buon abbiato non ci si può fare no 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 guarda sono tutti che mi vogliono ammazzare e ci vogliono per stare fai si ma dai che tanto poi ci divertiamo siamo qui assieme ci divertiamo a breia, don de loide ah ragazzi noi come sempre non stiamo riuscendo a sentire quasi niente della tv non penso che si sentiranno ma forse potrebbe sentire delle voci ma no delle voci si potete sentire quindi se lo sentite siete pazzi va bene si non è il canale non è il video che è venuto fuori male perché abbiamo registrato cose che non dobbiamo registrare siete voi essere pazzi se sentite voi ci sono in fondo si si e noi ragazzi non riusciamo a sentire niente perché il volume per evitare che lo registrino anche le cuffie con lì della tv stiamo giocando in gameplay che è quasi muto no, comunque se sentite un e la움 simulation si fa marzo hadello affaggiare come un come il promato si sarà metodo per raffredare veramente sono ventole che sono sparate a palla hai sbagliato strada si, lo so già però sto qua non si muove neppure dalla porta ma che serve un portone grande o? nah e qua sotto non ci sono prigioni magari possono sfondare alla porta ma che cazzo ne saé usavo di fantasia usa un po' di fantasia guarda sulle fogne anche le pantegane i dettagli di solito fuggono non pestare la merda come penso perché è merda e non semplice acqua o fango non so non so non parliamo farvi sentire bene i dialoghi si va tu mi rompi che non parlo ma io durante i dialoghi non parlo in primo video non parlavi neanche quando dovevi parlare se non sapevo di cui parlare di che parlare ero demoralizzato cosa vuoi era una settimana di merda avevo sotto verifica in sei giorni io giovedì devo andare a fare una gira in canocche e perché vuoi andare e perché ci vai ti hanno costretto ma chi ti ha costretto un po' tutti più che altro perché essere stato uno degli unici a non andare quindi ci devi andare ma si va e poi dopo ma a questo punto a parte dopo che ritorno potrei avere verifica di recupero di fisica educazione? no fisica ah cazzo vabbè altrimenti sai che recupero di educazione fisica le pressioni che non vengono ma esiste esiste recupero di educazione fisica io penso che se hai insufficienza in educazione fisica proprio allora vanno prima boccianti dovrei pagare una multa di un saldo bucato la stessa cosa io già ho una moneta di 50 centesimi che è bucata perché qualcuno con il trapano mi è andato a dire è rovinata cosa? con il trapano? si che sai come anche io da piccolo una volta ci ho provato avevo provato a vedere quanto erano resistenti le monete in questo luogo si tanto vale tanto vale fare come nel vecchio west lanci in area una moneta gli spari e vedi se l'hai presa no marta si le monete le ha centesimi centesimi una figata mettere le monete sui binari del treno così quando passa te la piattisce te la fai fuori come un gettone avevo visto nel video dei simson dove metteva una moneta di cosa? verità non cosa vedevi il treno che partiva saltava in area e spaccava tutto il treno si con un centesimo ho messo no no non disteso sopra in piedi io ho pensato no vien fuori così dopo ne raglio il treno simon sai qual è il bello come la vai a prendere dopo un moneta dopo che il treno è passato e simon se te la porta via non è una porta via che la fa al massimo la sposta ah al massimo la sposta vado a trovare che cavolo dice no una di moneta che è stata presa sotto da un treno qualcuno ne l'ha ritrovata che è allungata tipo a nei fratelli voi non abbiamo seguito niente di dialogo io lo so bisogna andare avanti a fare il parkour ragazzi assicuratevi si 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 e va giù bravo non devo non andare giù devo andare su cioè ma tanta movimento movimentate io in play cioè vabbè tutto gioca così sai che grattata le ginocchia è appunto sai che grattata qua bisogna andare su casini 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 ma non alzo no la sotto c'è un tesoro però l'ho già preso non ve lo dico se guardate gli altri episodi quelli che misteria le pensa che siamo fatti male invece è lui che fa male tutto no non vai commentare oh stai giocando col fuoco perché non vai a prendere il tesoro perché tanto l'ho già preso devi andare a riprenderlo perché ma sempre se c'è non so perché nel 3 se avete preso un tesoro se ripassavi anche in un altro non so se in un altro sì anche in un altro non lo trovavi vediamo ah stavolta c'è bene ok bene prendi tutto che bello hai trovato il tesoro sì io devo ancora trovarli tutti nel 3 ah no ho trovato tutti tu hai 3 sì sì ma è per la playstation 3 non so come cazzo registrare che bello il level design sì infatti è per questo che la playstation sta girando come un un cano armato della prima guerra mondiale almeno non muore un cano armato per me tra un po' prendersi altre e scappa qui si fa i singoli da solo si crea un cannone ma è il calibro 9 mm che spara che spara a ICD no lo vedo tanto il tunneloso però cosa? il gameplay tanto? tunneloso in che senso tunneloso? è un tunnel non è che è open world cioè devi fare questa roba qui sì infatti è tutto guarda che è così ma forse a volte anche no è un film interattivo noi li chiamo giochi film interattivi dove devi fare solo quello lì che vuole il gioco sì vabbè tanti sono così questo qua per esempio fa vedere una grafica tutto un paesaggio che ti fa dire adesso vado di là no vado di là no vado invece devi seguire una linea dritta sì è vero è vero anche su Dark Souls ragazzi no non tanto la gente dice nell'1 per esempio Dark Souls è un open world sì è un open world però è un open world in corridoi cioè non è che può essere come su Skyrim puoi scelare i monti non che Skyrim sia bello ma non si è brutto sono open world open world sì vabbè in cilio a vedestà fa tanti open world tanti hanno velocizzato ancora le dinamiche di Assassin's Creed se su Assassin's Creed erano scogliate ad arrampicarsi qui si tenete a sport di suonso Assassin's Creed dopo Revelation è diventato uno schifo ah di me l'ho sempre fatto un po' schifo mi parere no dai no all'inizio aveva una storia sua con anche non solo Revelation qual era che non riesco di conoscere è quello là dove è la barba ed è vecchio è presente? sì 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 quello là per me è l'ultimo Assassin's Creed sì anche per me sono tutte merde quello in America giuro giuro in America tu nei quelli da prima trovavi al massimo 4 guardi in un agro in crolli in America trovi contingenti ogni agro ogni metro ci sono più militari che civili bel cavolo e trovi tipo in modo che sei nella rivoluzione americana cosa ti aspetti? sì lo so ma in una città dai non sei diciamoci la verità cosa hai ti tieni su ogni civile ci metti due soldati per tenere d'occhio in una città cioè gli manderai combattere piuttosto cioè qual è lo scopo infatti stai spammando del pulsante X lo so per velocizzare le cose mi sa che qualche tesoro lo sentato infatti poi anche a me gli assassini sono più oh siamo arrivati nell'automo oh mio dio oh mio dio oh mio dio c'è il delta no che lettere sono sono simboli i simboli del coso non sono le tre greche simboli dell'oddio non cavaliere dell'oddio fossero le tre greche una roba bellissima ragazzi è che io quando credo io sto parlando cioè io dico dopo ci ritroviamo e lui risponde dicendo o e poi scrive k per dire ok io rispondo dicendo oppure lambda io alla fine gli ho risposto non rispondere lambda lambda che sono tutte lettere greche perché la k è una lettera greca k poi c'è un'altra lettera greca è lambda io scrivo io preferisco lambda e lui io delta home no 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 questa è lunga questa è lunga non serve che la leggiamo le città voi ok hai fatto vedere almeno che potevamo leggerla eh hai dato abbastanza il tempo di riposare il video si va bene ma dai va bene dai vi lascio ah tira fuori dal culo si prendila con calma su no in cadene no non leggia solo per dare il tempo magari non devono stare via a controllarsi per fare i miei per finire ah un membro cosa da un membro ok non hai già letta questa qui si l'ho già letta non sono scendendo la sto leggendo adesso mhm mhm si io padre tua madre fittosto si io che in teoria sto qua è noi quindi siamo solo i cacciatori di tesori da quel compito giusto si bello carina eccoci qua il sole il sole il sole ok questa cosa di sole l'eserci scappata di mano comunque dobbiamo smettere la parte del simbolo il sole quindi siamo anche dei tipi tipo degli indiana jones siamo di solo delle nicchie ecco l'altra metà mi sto mettendo la posta le cucchie che fanno male basta cosa stai facendo no lascia perdere se non hai visto indiana jones ora ci siamo l'ho vista indiana jones ok lascia perdere va bene in teoria qua devi cercare i simoli io so già quali sono sono quello quali sono quello là dello scorpione e quello là della no quello dello scorpione e quella del non lo so non mi ricordo più rimetti il simbolo guarda in alto un attimo quale no stavo per dire un delta è rovesciato è un pi greco allora la soluzione sono numeri romani sti qua che cazzo si lo so se non lo conosci numeri romani deve andare a casa la soluzione si ok 12 la soluzione è 12 come fai a saperlo perché lo so già x guarda i simboli sono due x gli spiego scorpione è 2 quella là è x x x i potrebbe anche essere 8 si ho già provato vedi è questa qua 10 e 2 x e 2 ecco qua altrimenti dobbiamo andare avanti a spammare tutto si io alla fine e all'inizio sono andato avanti così io non ho pensato eh ci sarà qualche nesso 8 12 quando sono arrivato 12 vinto oh un crocifisso si che è diventato lucente dopo avergli messo la mano sopra esatto digna factis recimus oh lo so io in latino digna digna factis recipimus recipimus cazzo digna dovrebbe essere dignità facis fare mi sembra se era quello lì e recipimus non mi ricordo cos'è nascondere un crocifisso vabbè non c'entra niente vabbè un crocifisso d'oro cazzo no sto qua il cavo ti spiego dopo perché vabbè spoiler e cavo e lo provo a vedere sai un po' tutte le abitazioni appunto c'è chi ha detto ti fa lo fa sembrare un open war tutto madonna vado da per tutto e spero tutto e una linea dritta in teoria una linea dritta quello scalino una trappola una trappola scalino scalino è ah perché la gente cade ci fa male ah eh sì guarda il mio carattere la moda di fare cadere la gente nel metro d'altezza non è proprio una trappola è più una ah vabbè se cadi di sinocchia sai che male sì per l'amor di dio però non t'ammata al massimo devi interrompere l'avventura e tornare a casa strisciando ah eh sì tornare a casa strisciando sì adesso legno ah è quasi spacca madonna cara è un non è uno scogliato è un è un cosa dobbiamo fare un paragone qualcosa che è molto veloce da rampicarsi una scimmia neanche più veloce di una scimmia addirittura sì appunto fa salti di giovani poi fa faticare magari qua c'è un'altra trappola a salire no non c'è niente tranquilla e spingi parla di legno no tutto arrosinito qua così sei molto più bravo un po' di olio e di vomito i crizi quando fai gameplay è antipace tipo dice vaffanculo e tratta male gli npc ah beh se le guardi ti prendono manganellate vorrei vedere te se non sei cattivo parlavo dei è un gioco sì ok ma tu tu non ti medesimi nel gioco anche perché sei palloso è per questo che non la faccia la geno sai di nander ah è giusto la farò io quando lui finirà la pacifist sempre se qualcuno finirà la pacifist finirà la pacifist sì ma l'hai fatta all'inizio che vuoi che sa cagli eh lo so ma vabbè guardatevi guardatevi più un episodio se no lui non la continua più e io non posso farla sino commentate ditte misterale vogliamo che tu faccia la serie di undertale se no se no io non posso farla sino sai e voglio farla non senso no nel senso voglio farla perché è bella ok vediamo che cosa ci dice sono curioso che hai trovato un cazzo di niente esatto allora allora adesso lo colpisci scommettiamo no c'è un indizio non l'ho trovato ah io ve l'ho già detto il fornaio delle cazzate papo le sforna come panini già si forse c'è un altro attore ma che cazzo hai una mappa di questo posto c'hai una piantina sì una piantina il fornaio delle cazzate sì sì l'ho detto il fornaio delle cazzate ne spara la papo le spara come panini sì sì dopo ritroviamo il nostro padrone la stessa lo so lo so non serve che me lo dici esatto l'esistazione interrotta subito ripresa oh adesso possiamo tranquillo non vuol dire un cazzo ok torna da me ma va se ti becco ancora pare a pugni vai nella buca una settimana ah cerca di coprire il fatto che non l'abbiamo portato ah beh ovvio no si fa pensare che l'abbiamo prestato quasi quanto la mia perché ho trovato un gratifisso d'oro ma cioè volevo dire non ho trovato niente io the putt e fai anche delle partite divertenti quando sei io the putt lo capiscono lo capiscono tutti per me diciamo che ve l'ho detto nell'episodio precedente il video del prima di un certo lo stai caricando si no lo sto convertendo e va bene dopo lo da un po' lo carico ci mette tempo a convertire ragazzi si si poi devo convertirlo in HD se no viene una grafica tipo fallout 1 si che già la 4 è discutibile come era affida poi ho giocato a New Vegas al 3 vabbè contate che il 4 era in programmazione dal 2009 cioè Game Fortress 2 se lo conoscete era in programmazione da 13 anni sono 13 anni in programmazione perché non riuscivano a realizzarlo si vabbè se tu leggi ti dice 1997 poi ti dice 2013 la data di creazione si vabbè Final Fantasy 15 doveva chiamarsi in un altro modo era in tipo da più di 10 anni che era in programmazione cioè te pensa più avanti andando avanti a fare migliaia di Final Fantasy tu te pensa Final Fantasy una serie che va degli episodi 30 in latino con i numeri latini Final Fantasy xllmni iiii ma io a pezza ma io mi immagino quando arriveranno quando arriverà il 2099 che FIFA verrà fuori FIFA 99 di nuovo ahahahahah FIFA 99 vabbè penso che quando arriva il 2099 forse mi sarà anche un po' evoluto il modo di giocare tipo gare il calcio non esisterà più ah e beh però forse il mondo non esisterà più forse non lo so forse nemmeno noi esisteremo più ma ovvio quando bisogna arrivare il 2099 nel 2099 avremo 100 anni noi cazzo o di più magari ci arriviamo si vabbè il giro di lunga vita cazzo legno con intarsi di oro e argento come dove lo vedi l'argento? ah la roba sudata dentro il cavo mhm ti ho detto che è il cavo dentro un uomo di Everi dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso non è un crocifisso come no? unicamente un crocifisso alla croce si ti ho già vabbè adesso capisci perché no che figo cosa? vediamo non so che significa riceviamo riceviamo google traduttore riceviamo il giusto per le nostre azioni ecco perché prendo 4 latino ogni volta ogni volta è santisma è santisma mhm lì ah facciamo finta no facciamo per vero Gesù venne messo tra i duratroni ok il primo seguite che è interessante il secondo lui si pentì e accettò il suo testigo se Gesù lo condossè in palazzo il ladro ok ah che figata però c'è cazzata a parte voi cioè ci hanno anche dato abbastanza dentro con le intersezioni della storia ci guarda che è pieno di intersezioni eh si si no hanno fatto bene dai cioè non sono sempre abituato a vedere che ogni gioco barattini che punta tutto sugli effetti speciali per avere una storia di merda però tipo la storia è comunque una merda ma queste robe qui però sono molto carine a vedersi intersezioni cioè per te per me tu parli di storia se mi tre conto tre possiamo fare ma di storia parla di storia del gioco o storia di che storia del gioco ah come fai a capire che non merda no no ho detto perché magari può anche essere una merda ma questa è una intersezione qui qua questa ah non la non la pila mi sarebbe capito non la pila perché non la pila eh perché lascia vedere risone risone queste che sono le che succedono a vedere i posti in bus la mattina eh si si spostati il posto in fondo almeno un po' questa è una presa dopo un po' in due eh quello che poi voi ragazzi voi dovete vedere come gioca i criz spammare i criz eh spammare i criz e spammare i criz no no non sto per spommando ix no sentate poi le loro sto spammando il tasto quadrato le stanno prendendo tutti i treni e me la mette le stacchiette aiii io io oh oh dai ecco ne vuoi ancora pelato ne vuoi ancora ah scrive i pugni mi voglio crescere i capelli sono di cazzotti in faccia ti faccio crescere i capelli sto mi abbraccia no abbraccia sono di cazzo vuoi no ah c'è c'è vati oh cazzo vuoi va ci tenere attuogliere lo sportello in faccia si si in teoria fai come lo simile mi sta ammazzando però ah l'avevo previsto quasi ebbè ovvio sin 2 guarda voli miei amici 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 dietro aspetta guarda guarda lì guarda lì non fanno un cazzo idioti ah beh ok ho arrivata la guardia salvati no simo dovute nemmeno è più forte bravo basta dovute nemmeno il cartellino però ahia ma non c'è c'è eh google traduttore sempre attivo qua vi metto in fiazza cos'è questo ah la c'è vado dammelo 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 contrabandi della merce ti ha sgammato ufficina portiamo i gringosi ragazzi in un posto nell'officina io mi sto in brodo io io faccio tedesco a scuola ma se facevo spagnolo avrei preso 10 una puttana te lo spagnolo si è abbastanza cioè si che glielo riesce a capire mezza che senza averlo mai visto ah fai tedesco? si vabbè io ci vado per parlare alla hitler no 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 io lo farei per far parlare alla hitler tipo però non lo facciamo è molto difficile vabbè ce ne hai messo che un po' ci stavano facendo sì secchi ti ho detto che lo scamo sarai in un'altra torre adesso sai perché lo chiamo il fornaio delle cazzo ti sembra un'idiotta? ok vuoi rinegoziare? beh ti sembra un'idiotta? si è troglodito appunto metti via la pistola dai se me la putta hai faccia dai si sembra ma era danno dai la mette dai mi sordo del cazzo 50 per non aver fatto una sera è proprio il riassunto della politica italiana vi alza 30 25 è giusto no dai 25 25 mi sembra equo no ma neanche il 5% era equo non fa un cazzo non fa un cazzo ma va si va beh intanto non so neanche se li trovi non te l'aspettavi anch'io ci sono rimasto male quando l'ha fatto beh mazzarna guardia non so quanti anni ti danno minimo te ne danno 6 di arriastoli cos'è che gli hai chiamato? lo so però in tanti i personaggi li hanno creati abbastanza bene tipo il personaggio protagonista ci facciamo la recensione? cioè cosa? una volta finito il gioco? si ah anche prima dai ma dai cagare se no ma scusa non hai giocato ci sponeremmo il mondo con la wiki non hai giocato non hai giocato un singolo gioco te cosa vuoi fare la recensione? ho fatto i propri di fable si vabbè fable ce li hai giocati tutti ma di un chart non sai neanche non sapevi neanche il titolo una settimana fa la farei la farei la farei la farei io non posso neanche farla farla sinceramente perché ho giocato oh bravo 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 è morto in maniera stupida è morto in maniera stupida è morto in maniera stupida mi hanno sti qua ma le hanno fatte di nomadio che mira di merda eh appunto eh mi hanno preso però si appunto ma all'inizio lo dicevo anch'io ma che cazzo di mirano che mi mancano se nemmeno fossero fucile a canna liscia che ti sparano guarda 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 si ma sono mio p stavo dicendo non neanche io neanche io posso carcere sicurezza minima già scritto tipo come si chiama questa carcere un nome non lo so di panamo carcere di panama sicurezza minima sicurezza minima assente guarda cecchini strabici guardie corrotte i giornali che si abbassano l'altro comunque dicevo non posso fare non potrei fare neanche la recensione però perchè finchè non gioco il primo anche il secondo cioè che cazzo di recensione faccio dai ma si è pirla eeeh si no eh no no non mi piace già pericolante ecco ecco ma perchè dove insieme poi ti per ultimi non hanno sfondato quella porca ci scommetto no no ah hanno sfondato noi piuttosto ah eh si sono guardie stai qua no no eh si le guardie che vanno a pugni ah infatti perchè ci attaccano quindi questi cassetti perchè perchè si così per colpire per divertirci dai se li cazzo di ama le guardie ci danno un ma non credo ma tu non sei malato ma tu sai come si gioca stai solo spammando il pulsante quadrato si guarda che per lei si deve fare così eh spammare il quadrato si bellissimo il gameplay oh si ci arriva un calcione cavolo il perato da strada uno in confronto a sti qua si si sti qua abbiamo fatto presto si due pugni oh mio dio mi ricordo resident evil che dì mamma devi farlo ah si perchè se no non sei abbastanza forte ah giusto anche se anche se anche se se chris che era tipo un bisogno di cento chili con con braccia come come dinamite non riusciva a spostare è doppata ha bisogno di una magra ma tipo ma scusa pesi pesi tre volte mesi forte sette volte di me come fai a non spostare quella roba il gioco dice di no allora quindi da solo da solo lui esercita una forza di cento newton facciamo finta e non riesce a spingere il carretto arriva lei dieci newton in più e riesco a spingere il carretto esatto no 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 sto aspettando quello là che oh esatto allora chris esercita una forza di cento newton va bene il coso pesa sessanta newton ma se devi farla in copp non puoi spostarla neanche se vuoi si pesa sessanta newton cioè dovresti dire servono sessanta newton per spostarlo qua ci ricolleghiamo alla fisica fai il lavoro nullo quindi allora il lavoro negativo si sposta indietro si esatto vi stiamo fornendo una lezione di fisica gratis e io faccio schifo abbastanza schifo e io avevo sette l'anno scorso posso farvi le darvi lezioni di filosofia e psicologia io se vuoi io posso darvi lezioni di impianti magneti perché il chris non riesce a parlare bene quando fa il video da solo si di cosa devo parlare non posso parlare di fisica da solo allora se te lo prendono eh no beh loro stanno solo di fucire a pompa si sei stato un veggente e l'hanno preso in pieno se ne è beccato 4 sembra suo fratello lui si si abbiamo mai partito cazzo non eh porca puttana è morto in modo figo sfondare il tattuccio dopo ti spiego ok niente ragazzi niente 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 no io stavo parlando di due cose in linguaggio muto ma lui non capisce io faccio schifo il linguaggio muto ecco perché io a scuola non riesco mai a orientarmi in quella scuola ci aiutano un l'altro io non capisco il linguaggio a volte non capiscono neanche quando parlano pensate voi fate conto che per esempio io nella classe se non gridi non ti capisco comunque io nella classe sarei quello da cui dovrebbero copiare io non capisco allora o non capisco il linguaggio muto oppure lo capisco ma li lasci in merda perchè sono bastardo no io invece proprio non lo capisco vabbè anche io per le volte perché se noi ci abbiamo alcuni professori che sentono un po' non dovremmo parlare di queste robe perchè se i professori sentono sono cazzo porca puta come è che era lì quel motoscaff io penso ragazzi aspetta eh adesso cominciando qui bisogna essere quando devi fare una storia che sia un libro un gioco un film che stesse roba bisogna giocarsela bene con le personaggi femminili perchè altrimenti tendono a stare sulle palle anche tanto allora io ci ci urlano l'attenzione del protagonista do un esempio Bulma di Dragon Ball e Misa di Death Note la sua parola era tu non lo capisci sì sì ho presente guarda ho anche io e i Chris Dragon Ball ok terzo capitolo non lo possiamo fare l'ho già fatto ma mi sarebbe un pezzo di merda tagliamo e non tagliamo finiamo qui secondo capitolo e ci rivediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti.